Chiedi ora queste tre cose al Sacratissimo Cuore di Gesù e otterrai la pace nell'anima. Tra le tantissime preghiere e suppliche che possiamo recitare al Sacro Cuore di Gesù, o anche detto Sacratissimo e Santissimo Cuore di Gesù, ne ritroviamo una davvero molto bella e breve in cui possiamo chiedere tre cose importanti al nostro Maestro di vita spirituale. Con questa preghiera infatti possiamo chiedere di espiare i peccati commessi ogni giorno, purificare il bene fatto in modo non consono ogni giorno e supplire alle opere buone che bisognava fare ma che non si è potuto fare. Si recita anche il Gloria al Padre dopo una serie di brevi frasi. Recitatela ogni giorno se potete. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Eterno Padre, vi offro il Cuore del vostro Divino Figlio Gesù, con tutto il Suo amore, tutte le Sue sofferenze e tutti i Suoi meriti. 1. Per espiare tutti i peccati che ho commesso in questo giorno e durante tutta la mia vita. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. 2. Per purificare il bene che ho fatto malamente in questo giorno e durante tutta la mia vita. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Nel nome del Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.